Per anni ho sentito la storia della leggenda di Harlem Charles Gabriel uno chef nominato al premio James Beard e un uomo migrato direttamente dal sud il suo pollo viene ancora fritto in vecchie padelle di ghisa oggi chef Charles e il suo protetto chef qui mi hanno invitato per un fuori menù dolce e salato che è un classico di Harlem chef Charles chef qui come stai come va un piacere è un onore incontrarvi è un piacere chef qui come stai sediti qui abbiamo apparecchiato stavamo cucinando il pollo vi ringrazio servirò io chef Charles si sieda arrivo d'accordo